Amministrazione comunale di Chieti al lavoro per l'avvio del nuovo anno scolastico che in città partirà regolarmente il prossimo 13 settembre. Come spiega l'assessore alla pubblica istruzione Teresa Giammarino, sono molteplici le attività messe in campo dall'amministrazione in vista della riapertura. Ad oggi non si registrano criticità in nessun plesso scolastico. Questo anno è stato ancora di più programmato, dato dal fatto che ci sono anche le vaccinazioni in atto, dato che ci sta un decreto ministeriale che va a tutelare maggiormente le scuole, quindi i bambini, le docenti, il personale ATA, e quindi sicuramente riusciremo a vivere un anno scolastico, si spera, in presenza soprattutto, dove l'abbiamo anche garantito l'anno passato ma con un breve periodo di DAD. Ci dispiace soprattutto per le scuole superiori del secondo grado che l'anno scorso l'hanno vissuto invece a distanza con la DAD. E' un augurio mio, faccio un grande in bocca al lupo perché sicuramente loro si riavvieranno in presenza e speriamo di poter far sì che possano continuare tutto l'anno scolastico in tranquillità. In questo momento c'è qualche criticità per quanto riguarda qualche scuola a livello di strutture o riapriranno tutte? Allora, per quanto riguarda le scuole mie, diciamo, di l'infanzia, le primarie e le medie di primo grado, sicuramente si torna in sicurezza perché il distanziamento è stato fatto, quindi è stato fatto un programma di come allocare tutti i ragazzi e i bambini, e quindi con le aule a disposizione, con i plessi, si è fatto tutto quello che c'era da predisporre per quanto riguarda proprio la tranquillità dal punto di vista Covid.